Grande prestazione per l'Unitas Sciacca, che in trasferta a Palermo supera nettamente il risultato a San Lorenzo. 2 a 6 il risultato finale, che i seccensi hanno centrato grazie alla tripletta di Coco, alla doppietta di Pasquale Galluzzo e al gol in apertura di Venezia. Per i padroni di casa invece le marcature sono state siglate da Zerbo e Rosone. La partita è stata più combattuta di quanto non dica il risultato finale, soprattutto nel primo tempo. Erano stati i palermitani infatti ad andare per primi in vantaggio, poi la rimonta dei neroverdi e il successivo pareggio dei padroni di casa. Dopo il 2 a 2 però la squadra di mister Vincenzo Piazza ha preso il largo, chiudendo il primo tempo in vantaggio e infine aumentando il bottino di Reti nella ripresa. I neroverdi sono sempre più primi nel girone A del campionato di prima categoria. Hanno nettamente il miglior attacco con 40 Reti, il secondo miglior attacco ne ha 26 e il capocannoniere del torneo, Galluzzo, con 16 gol. Dietro però il Cini si non molla. La seconda in classifica ha appena due punti in meno rispetto allo Sciacca, seppur lo scontro diretto del girone di andata sia stato appannaggio dei neroverdi. Domenica prossima turno complicato per la capolista che ospita i trapanesi del Fulgatore, attuale terza forza del torneo. Il Cini si invece giocherà in trasferta sul campo dell'ultimo in classifica, il Colomba Bianca di Palermo. Sin da ora la società chiama raccolte tifosi per sostenere la squadra al Gurrera. Prezioso pareggio invece per il Real Menfi che, al termine di una prestazione tutta cuore, ha strappato il 2-2 al Palermo Calcio Popolare, squadra che veleggia in zona playoff. Erano stati i palermitani ad andare in vantaggio e portarsi sul 2-0, grazie alla doppietta di Petrolà. Nella ripresa poi la rimonta dei Belicini, guidati da mister Vito Alesi, prima con Fofanà e poi con Rizzuto sul calcio di rigore. Il Real Menfi resta in zona playoff, ma può guardare con rinnovato entusiasmo al futuro prossimo. Questi tutti i risultati del dodicesimo turno. Real Menfi, Palermo Calcio Popolare 2-2, Mazzarese Carini 2-0, Cini Sigi Bellina 1-0, Fulgatore Colomba Bianca 2-1, Valderice San Vito Lo Capo 1-1, Belmonte Mezzagno San Giorgio Piana 1-0, Resuttana San Lorenzo Unitas Esciacca 2-6.